La gente subito si soffermava sulla porta perché non credeva ai propri occhi, perché l'avevo abituato al take away. Poi con un cenno li facevo venire avanti e erano un po' strabilianti, con gli occhi un po' lucidi. Finalmente si beve un caffè dentro al bar e lo si beve sulla tazzina in porcellana, zuccherato, con tutti i vari caffè che ci sono. Una vera e propria sfida decidere di riaprire i bar, che oggi ha deciso comunque di provare a tornare ad offrire il servizio quotidiano del caffè in tazzina, ha dovuto farlo tenendo conto di tutti i limiti imposti. L'abbiamo riaperto non come tre mesi fa, però la gente era molto contenta perché nonostante dei limiti hanno potuto bere i caffè sia seduti al tavolo oppure al banco, sempre tenendo le giuste differenze e le distanze prescritte dall'emendamento. Poi con le mascherine, quando dovevano bere o mangiare le levavano giù per poi riprendersi. È comunque un segno tornare e riassaporare il caffè come da tradizione, non è semplicemente consumare una bevanda. Il caffè a bar è un vero e proprio rito. È un simbolo, sì, del ritorno della vita. Speriamo che continui.